LUNEDÌ DELLA SETTIMANA QUINQUAGESIMA La vita di un cristiano fedele, come quella di un patriarca Abramo, non è né più né meno che un corazzoso cammino verso il luogo a lui destinato dal suo creatore. Deve mettere da parte tutto ciò che potrebbe ostacolare il suo progresso, ne deve guardare indietro. Questa è, senza dubbio, una dottrina dura, ma se riflettiamo per un momento sui pericoli che circondano l'uomo caduto durante il suo pellegrinaggio terreno, e su ciò che la nostra triste esperienza ci ha insegnato, non penseremo che sia difficile o strano che il nostro Salvatore abbia fatto della rinuncia e della negazione di noi stessi una condizione essenziale della nostra salvezza. Ma indipendentemente da questo, non è molto meglio mettere la nostra vita sotto la guida di Dio piuttosto che tenerla nella nostra? Siamo così saggi o così forti da essere in grado di guidare noi stessi? Possiamo resistere a nostro piacimento, ma Dio è il nostro sovrano Signore e Maestro, e dandoci il libero arbitrio, per mezzo del quale possiamo resistere alla sua volontà o seguirla, Egli non ha abdicato ai suoi infiniti diritti all'obbedienza delle sue creature. Il nostro rifiuto di obbedire non lo renderebbe meno nostro Maestro. Se Abramo, dopo aver ricevuto la chiamata divina, avesse scelto di rimanere in Caldea e si fosse rifiutato di rompere la casa che Dio gli aveva ordinato di lasciare, Dio avrebbe scelto qualche altro uomo per essere il patriarca del suo popolo eletto e padre di quella stessa famiglia che avrebbe avuto il Messia come uno dei suoi figli. La vita cristiana consiste in questa instancabile e senza riserve obbedienza a Dio. Il primo effetto di questo spirito di sottomissione è che toglie l'anima dalla regione del peccato e della morte in cui stava sprecando la sua esistenza, la prende dall'oscura Caldea e la colloca nella terra promessa della luce. Per timore che svenga lungo il suo cammino lungo lo stretto sentiero e cada vittima dei pericoli che non la lasciano mai perché sono dentro di sé, Dio le chiede sacrifici, e questi la sostengono. Anche in questo caso, abbiamo Abramo per il nostro modello. Dio lo ama e gli promette la più ricca delle benedizioni, gli dà un figlio come pegno della promessa, e poi, poco dopo, mette alla prova la devozione del santo patriarca ordinandogli di uccidere con la propria mano questo caro bambino sul quale gli è stato detto di costruire le sue speranze. Il cammino dell'uomo sulla terra è sacrificio. Non possiamo uscire dal male se non per la via dell'autoresistenza, né per mantenere il nostro piede su un terreno buono, ma combattendo costantemente. Imitiamo Abramo, fissiamo con fermezza gli occhi sulle colline eterne, e consideriamo questo mondo come una semplice dimora di passaggio, una tenda, montata per qualche giorno. Il nostro Gesù ci ha detto, non sono venuto per mandare la pace, ma la spada, perché sono venuto a separarmi. Matteo 10 e 34, la separazione, dunque, e la prova ci saranno sicuramente inviate, ma siamo ugualmente sicuri che sono per il nostro bene, poiché ci sono mandate da colui che ci ha tanto amato da diventare uno di noi. Ma questo stesso Gesù ha anche detto, dove c'è il tuo tesoro, c'è anche il tuo cuore. Matteo 6 e 21, Cristiani. Può il nostro tesoro essere in questo mondo miserabile? No, deve essere in quella terra giusta sopra. Lì, allora, dobbiamo essere, nel desiderio e nell'affetto. Questi sono i pensieri che la Chiesa vuole farci meditare in questi giorni, che precedono immediatamente i quaranta della quaresima. Aiuteranno a purificare i nostri cuori e li faranno desiderare di stare con il loro Dio. Il rumore dei peccati e degli scandali del mondo arriva alle nostre orecchie, preghiamo perché il regno di Dio venga a noi e a quei poveri peccatori, perché l'infinita misericordia di Dio può trasformarli, se vuole, in figli di Abramo. Non passa giorno, ma egli cambia così tanti peccatori. Egli ha, forse, mostrato quel miracolo della sua misericordia verso di noi, e quelle parole dell'Apostolo possono essere applicate a noi, voi, che qualche tempo eravate lontani, ora siete resi vicini, a Dio, dal sangue di Cristo. Efesini 2 e 13. Preghiamo per noi stessi e per tutti i peccatori, in queste belle parole del breviario mozzarabico. Preghiera Ti supplichiamo, o Dio Onnipotente, che, mentre i nostri peccati ti hanno fatto arrabbiare contro di noi, le nostre preghiere e lodi, che tu ispiri, possano propiziarti e piacerti, affinché così, per la tua misericordia, le vessazioni di questo mondo non giattino giù la nostra anima, nell'illusione dolorosa la possieda, nelle tenebre dell'incredulità la circondano, ma possiamo noi brillare della luce del tuo volto, con cui ci hai fermato, e sempre, per fermezza nella vera fede, cammina nello splendore della stessa. Amen. Uguale 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 uguale. Questo testo è tratto dall'anno liturgico, scritto da Don Prosper Gueranger.